Comunque, vabbè, la hostess era molto carina, mi è piaciuta tanto. Ma che stai dicendo, scusa? Ma come ti permetti a dire queste cose? No, non ti devi proprio permettere a dire queste cose. Dai, Elena. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto ok, va bene? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.